Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily in compagnia di Benpe Paribas. Nei giorni scorsi avevamo provato a fare un trade sull'oro ma purtroppo non eravamo stati eseguiti e di conseguenza il nostro ordine non era entrato. Oggi ci riproviamo tenendo presente di tutta una serie di cose che sono veramente importanti tra cui i dati macro che usciranno nella giornata odierna. Andiamo subito a vedere il dato più importante di oggi che è il dato sul lavoro americano in particolare i non farm payrolls quindi la creazione di occupati nel settore non agricolo. Interessante vedere come le attese siano appunto di una diminuzione degli occupati e se andiamo a comparare con il mese precedente addirittura hanno stati creati 273 mila posti di lavoro quindi un dato molto importante che potrà avere un effetto forte sui mercati. Tale questione secondo me ci deve invitare a fare un ragionamento su quello che è l'oro e soprattutto gli stop loss e di target. Io tendo ad avere sempre dei livelli di stop più stretti rispetto ai target ma ho deciso comunque di mantenere degli stop abbastanza larghi perché mi aspetto una volatilità importante nel pomeriggio quindi quando usciranno questi dati. Quindi il mio ordine pendente sull'oro al ribasso è comunque su dei livelli accettabili ma leggermente distante dai prezzi che batte attualmente sopra i massimi della candela precedente per intenderci ma comunque in un'area, questo è un grafico giornaliero, in linea con quello che sono i prezzi che sono stati battuti nei giorni scorsi. Se scendiamo di time frame andiamo su un grafico orario possiamo vedere come effettivamente questi sono dei livelli che il mercato sente parecchio. Per arrivare al nostro livello di stop loss bisogna andare indietro insomma di quasi un mese quindi il nostro livello di stop loss è molto interessante. Come target ho messo un livello sotto i minimi appunto segnati recentemente perché qualora dovesse esserci un'inversione di tendenza probabilmente andremo a rompere questi minimi quindi il target potrebbe essere diciamo raggiunto. Giusto per dare qualche informazione in più l'ordine è pendente e vale nella giornata quindi un ordine buono per la giornata come si dice in gergo borsistico ovviamente qualora dovessimo entrare poi valuteremo stop e target che sono ovviamente multi day probabilmente multi day e poi appunto nelle prossime puntate daremo anche magari qualche indicazione su come gestire al meglio la posizione. A questo punto andrei sul sito di Benpè Paribas andrei a selezionare quelli che sono i certificati turbo più interessanti sull'oro quindi andiamo a scegliere prodotti short su l'oro che appunto sottostante che siamo andati a individuare adesso io penso che uno dei prodotti più adatti in questa fase possa essere l'NL 001 40 87 868 con livello di knock out a 1825 perché ci offre una leva interessante di oltre sette volte però diciamo non siamo non stiamo parlando di una leva infinitamente alta come quella che vediamo per esempio sul primo prodotto ovviamente poi ognuno è libero di scegliere il prodotto che preferisce io ho optato per una leva media all'interno dell'offerta poi ognuno potrà scegliere diciamo il prodotto che più lo aggrada. A questo punto ho inserito 800 pezzi e metto un ordine pendente per il momento intorno a un euro e 80 poi all'interno della giornata vedremo magari come rimodularlo a seconda dei diciamo dei movimenti che prenderà il mercato mi raccomando lo ripeto ancora una volta attenzione a quello che succederà in concomitanza dei dati sui non farm payrolls perché ovviamente sono dati che potrebbero scombinare un pochettino le carte quindi andiamo a ricapitolare la nostra posizione l'idea è quella di entrare short sul gold quindi su una commodity l'ingresso è posto in l'area 1625 lo stop loss 1655 quindi abbastanza distante per tener conto della volatilità il nostro target a 1565 che non verrà probabilmente raggiunto oggi ma è un target che ovviamente deve essere considerato per il multi day da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento a Turbo Daily ogni mattina alle 9.45 ciao 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 ciao